Nicola Iori, un giovane di 19 anni originario della provincia di Caserta, ha perso tragicamente la vita in un incidente avvenuto a Velipoio, una località turistica in Albania dove si trovava in vacanza. Il drammatico episodio si è verificato sabato 17 agosto, quando Nicola è rimasto gravemente ferito in una collisione tra moto d'acqua. Al momento dell'incidente si trovava su una delle moto, mentre l'altra era guidata da Salvatore Di Tella, un amico ventenne. Entrambi sono stati immediatamente soccorsi e trasportati all'ospedale, ma purtroppo Nicola è deceduto durante la notte a causa delle gravi ferite riportate. Le prime indagini della polizia albanese indicano che l'incidente è stato causato da manovre pericolose effettuate a circa un miglio dalla costa, motivo per cui Salvatore Di Tella è stato arrestato con l'accusa di omicidio colposo. Ottavio Corvino, sindaco di Casal di Principe, paese natale di Nicola, ha espresso il suo dolore e la sua avvicinanza alla famiglia con un commovente messaggio di cordoglio pubblicato su Facebook. Grazie per la visione!